Ciao Alberto, un'altra puntata di Vita da professionisti, adesso ci vediamo l'altra faccia del mondo da musicista le session in studio, tu hai registrato un sacco di roba al di là di quello che tu fai qui come chitarrista produttore ma anche con grandi artisti hai registrato varie cose, a parte magari raccontaci qualche lavoro fatto anche qualche esperienza come è stata, ma soprattutto mi piacerebbe sentire da te che non c'hai più 18 anni come ti permette, che cosa è cambiato e che differenza c'è tra una grande produzione e una piccola produzione, media produzione oggi allora mi viene in mente in particolare un esempio, qualche anno fa Loretana Bertè doveva andare a Sanremo voleva fare un riarrangiamento del brano che portava perché non era convinta, non le piaceva quindi un mio amico che era il fonico di riferimento di questa produzione disse al produttore dall'etichetta che era Rai Trade chiamiamo Alberto, lo portiamo in studio, gli facciamo creare una band, gli facciamo portare alcuni musicisti e facciamo un lavoro di studio di recording sia delle chitarre ma anche della produzione in generale quindi tutto un arrangiamento contestuale alla registrazione e questa è una cosa che ci si può permettere soltanto con un budget diciamo rilevante perché devi pagare quattro musicisti di cui uno ha anche la figura di coordinatore artistico, nel caso ero io lo studio per una giornata intera o due come in quel caso e quindi c'è bisogno di un budget era chiaramente Loretana Bertè un'artista particolarmente sicuramente famosissima con un grande supporto discografico si poteva fare parliamo non di tantissimi anni fa, forse sei o sette anni fa prima che si colorassi i capelli di blu ed è stata una bella esperienza vecchio stile mi viene da dire cioè dove la registrazione degli strumenti e la concezione dell'arrangiamento avveniva in studio con tutta la band di contro mi viene di pensare a come ultimamente le cose si stanno configurando dove si lavora praticamente solo in remoto cioè un artista ha bisogno delle chitarre, ha bisogno delle batterie, ha bisogno dei bassi si rivolge a dei musicisti che non solo gli piacciono come strumentisti ma che sono anche in grado di fornire un prodotto finito io chiaramente sono particolarmente fortunato perché facendo produzione ho uno studio con dei bei microfoni, una bella acustica ma diciamo che per registrare una chitarra non è neanche difficilissimo farlo, non lo so, in un soggiorno con un minimo di accorgimenti però per un batterista è molto più complicato ma anche per un pianista magari anche per un pianista perché comunque vabbè i pianisti spesso hanno dei pianoforti belli diciamo a loro disposizione però magari è in una stanza che non è perfettamente trattata il piano è molto vivace ci sono molti riverberi, molte riflessioni quindi diciamo che si è passati dal chiamiamo il pianista e andiamo in studio che aveva un costo molto alto anche perché non solo costava lo studio costava anche il fatto che il pianista si doveva togliere le pantofole prendere la macchina ad arrivare, non lo so, in un altro paese e fare la registrazione oggi scendi in ciabatte con la vestaglia adesso sto esagerando ovviamente fai la registrazione nel tuo studio casalingo però ovviamente qualcosa in questo si perde con la chitarra sicuramente si perde chitarra, batteria, pianoforte si perde l'interazione che quando si è in 4 e in 5 anche se tutti pensano di avere un po' la verità è tipico dei musicisti c'è comunque un clima collaborativo comunque tutti danno degli input, delle idee e si tende ad ascoltarsi a vicenda in particolare se c'è qualcuno che ha un po' la direzione artistica del progetto vaglia un po' le idee e le mette diciamo poi in ordine quindi c'è anche una permeabilità di influenza assolutamente, in particolare mi viene in mente quando viene qui da me un batterista a registrare o quando mi manda le tracce direttamente dal suo studio c'è un batterista in particolare con cui facciamo spesso entrambe le cose che ha organizzato benissimo nel suo studio e ottiene dei risultati tecnicamente eccellenti ma lui per primo dice che se c'è la possibilità e il budget preferisce venire da me perché interagiamo? perché magari se sta da solo ha dei dubbi che fa fatica a sciogliere tipo questa cassa la suono così la suono cosà metto questo accento suono il charleston più aperto un pelo più chiuso qui vado sul ride quindi mi manda 5 o 6 opzioni che a lui magari costano molta più fatica perché deve fare 5 o 6 take diversi tutti buoni e comunque non ha la sicurezza che quello che ha fatto sia esattamente quello di cui io ho bisogno o addirittura che sia la cosa migliore per il brano invece se viene qui ci si guarda ci si capisce subito quindi questa cosa si perde vale ovviamente anche per la chitarra quando sono io a dover registrare per qualcun altro sì gli mando le chitarre però non saprò mai se lui aveva magari un desiderio leggermente diverso in una sezione del brano che magari lì si può se era qui con me si risolveva in un secondo e quello secondo me è una grande perdita ovviamente col mondo di oggi high speed internet grande tecnologia che permette la registrazione anche con pochi mezzi ma soprattutto crollo totale dei budget purtroppo è il mondo in cui viviamo mi viene in mente un altro particolare avendo visto lo citiamo volentieri ecco un documentario straordinario che è Sound City il mio preferito che è Dave Grohl l'ha realizzato qualche anno fa che secondo me è veramente una pietra miliare del mondo meraviglioso del mondo della produzione della fonica del mondo degli artisti sì mi viene in mente che oltretutto oltre alla permeabilità non riesco a dirla sta parola oggi permeabilità ripeti con me permeabilità delle influenze che uno si dà l'uno con l'altro quindi il fatto di essere hai detto influencer? no, influenze influenze influencer io non lo dico lo so, non lo dici perché non ti piace la parola influenze che uno si dà l'uno con l'altro diciamo lo stile band alla vecchia tra virgolette sì sala pro quello che fa molto la differenza pure è lo spazio dove vengono registrati alcuni strumenti cioè è vero hai detto con molta dovizia di particolare che la chitarra forse non è così un problema registrarla in casa però oggettivamente adesso ricordandomi proprio quell'esempio di Sound City quello studio di batteria dove sono state fatte le batterie di tantissimi dischi storici era una sala enorme con un soffitto da 6 metri grande 80 metri quadri e lì ci facevano solo le batterie la cosa che mi colpisce di quel documentario ogni volta che lo riguardo è la missione del fonico residente dello studio che poi è quello che ha commissionato l'acquisto di quel Niv bello che poi ha comprato Dave Grohl e da lì il documentario è che è stata solo fortuna in realtà quella era una fabbrica di amplificatori Vox che avevano un po' trattato acusticamente però in realtà non c'è stato un vero e proprio design di quello studio però sì c'erano alcune caratteristiche che l'hanno reso talmente efficace nella registrazione delle batterie che tutti andavano lì e quella è una cosa che se lo registri a casa perdi ovviamente io ho fatto batterie in passato in studi meravigliosi tipo il forum music village di Roma che ha una sala gigantesca e quel riverbero naturale della sala che poi è una ex chiesa quindi è molto grande qui da me purtroppo non si può ottenere ma qui da me è già un grande passo avanti rispetto al box insonorizzato esatto perché comunque qui c'è un'acustica fatta da un ingegnere australiano molto sobria molto ferma perché chiaramente gli spazi non sono così grandi però già è più arioso che un box però chiaramente uno potendo andare in un bello studio con un'acustica appropriata allo strumento perché magari ecco la batteria va benissimo nella grande stanza se aveva una batteria molto pompata alla John Bonham per capirci o alla Sound City quindi sì purtroppo quella cosa lì si perde si perde tanto quando magari ti è capitato di lavorare con una situazione un po' più seria piassami il termine non semplicemente con un budget più grande o un artista più importante ma magari che c'era un produttore dentro com'è il lavoro da sessionman in relazione alle richieste che può fare un produttore dunque diciamo che la cosa fondamentale è mantenere una grande positività riguardo ai suggerimenti che ti danno perché comunque è facile diventare molto difensivi sulle cose che uno crea artisticamente anche una semplice parte di chitarra è una piccola creazione artistica molto spesso la puntura dell'orgoglio per quella creazione rischia di far diventare il rapporto con un produttore nervoso in realtà ammetto che molto spesso io lo vivo al contrario lo vivo da produttore piuttosto che da musicista perché da musicista mi capita molto più spesso di essere sia il chitarrista che il produttore però quando mi è capitato sentivo quella piccola pulsione ad essere difensivo dalle mie piccole creazioni ripeto anche due note di chitarra diventano due e fai fatica a rinunciare invece molto spesso ti accorgi che la visione del produttore poi io vivendolo da tutte e due i ruoli me ne rendo conto a volte il produttore che ha la visione del pacchetto ti fa fare qualcosa che magari per te non è naturale ma che porta verso una direzione che poi nella grande immagine d'insieme è quella giusta quindi direi che la cosa più importante da saper fare è rinunciare al piccolo per vedere il grande e purtroppo tra virgolette quel grande è una responsabilità del produttore non del musicista grandi sorrisi quindi magari non lo vedi nemmeno o comunque lo vedi in modo diverso da chi fa la produzione a me succede al contrario a volte mi capita con alcuni musicisti quasi nessuno di quelli con cui lavoro più spesso perché abbiamo un rapporto molto franco e forse li scelgo anche perché hanno una fiducia in me che mi permette di come posso dire di avere di poter dire che preferisco qualcosa piuttosto che qualcos'altro tra quello che hanno fatto senza offenderli quella è una cosa molto importante che io cerco a mia volta da musicista di applicare cioè non mi offendo se un produttore mi dice questa cosa magari no proviamone un'altra perché mi rendo conto che lui ha una visione che è diversa dalla mia banalmente sai a proposito di questo oggi che stiamo registrando questi video che siamo all'inizio di febbraio proprio pochi giorni fa è stato se non mi ricordo male il 35esimo anniversario della registrazione di We Are The World e c'è un video bellissimo che racconta la realizzazione di questo progetto e c'ho in mente questa icona di Quincy Jones che già allora era Dio proprio come produttore e artisti di livello mondiale Tina Turner Bruce Springsteen Michael Jackson Cyndi Lauper c'era il mondo là dentro stare in questa adesso non mi viene neanche il termine giusto forse in questa riverenza verso questo produttore che ci aveva chiarissimo come doveva andare il progetto e quindi hanno realizzato fino alle 4 di mattina sessioni diverse poi c'erano i solisti che erano già stati scelti quelli che avrebbero fatto solo il coro non ti sembra forse diciamo dalla tua esperienza anche social che tu vivi oggi che questa chiamiamola tra virgolette umiltà cioè disponibilità a farsi pungere forse non lavorando più insieme ma soltanto digitalmente ce la stiamo un po' perdendo penso che tu abbia detto una cosa estremamente vera i social contribuiscono il meccanismo è un meccanismo psicologico che credo sia un po' imprescindibile ma mi viene in mente una frase di Bonovox che è su un altro documentario molto bello che è From the Sky Down che credo che racconti il passaggio degli U2 diciamo da band classic rock come erano agli inizi a band post rock non lo so io non sono bravissimo con le definizioni però diciamo da quando hanno cominciato a fare musica un po' più elettronica un po' più elaborata che diceva io e tutti i componenti del mio gruppo cerchiamo di mettere il musicista secondo rispetto alla musica non tanto al produttore o al fatto di vendere il disco ma proprio al concetto di musica e secondo me un po' quello deve essere il centro dell'attenzione cioè Michael Jackson che io me lo ricordo un po' il documentario a cui ti riferisci che chiede a Quincy Jones che per quanto fosse un'eminenza grigia aveva comunque di fronte a Michael Jackson che era già una star planetaria da tantissimi anni Jackson comunque gli chiedeva la vuoi più così la vuoi più cosa non perché di fronte aveva soltanto non solo perché aveva Quincy Jones ma pure perché era parafrasando amico di cui mi fido e grande musicista per il bene della musica che ne pensi come sarebbe meglio sarebbe meglio così sarebbe meglio cosa la vuoi che strillo di più che ne pensi com'è meglio il che non significa annullare la personalità di Michael Jackson sarebbe impossibile perché insomma ne aveva talmente tanta che bastava che facesse e già aveva venduto un milione di dischi era solo un fatto di dare la precedenza alla cosa più importante cioè la buona riuscita musicale in un senso più ampio artistica del progetto e quella è una cosa che nell'individualismo si perde però permettimi di dire questa cosa caro Thomas quasi tutti i grandi che ho conosciuto fatta forse una o due eccezioni hanno un'umiltà pazzesca ed è secondo me proprio quello che li ha portati a crescere fino al livello di essere delle star internazionali uno fra tutti è Tommy e Manuel parlando di chitarristi acustici ha un tale desiderio di imparare e di essere migliore che è sotto gli occhi di tutti dove è arrivato ma non c'è arrivato sentendosi il migliore c'è arrivato sentendosi non il peggiore ma comunque uno che aveva voglia di fare ancora tanta strada secondo me quella è un po' la chiave bene grazie mille Alberto facciamo il filosofo dai però diciamo anche senza perderci in filosofia spiccia mi sembra evidente quello che hai detto è importante secondo me è molto importante sì oltretutto è una bella semina per chi potrà vedere questo video e magari questa cosa non ce l'aveva ancora pensato speriamo grazie Alberto ci vediamo alla prossima puntata grazie a voi ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti